Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme la pasta con i pomodori e le melanzane gratinate. In una ciotola mettiamo pomodori e melanzane. Aggiungiamo il sale, l'aglio, il pepe, l'olio, un filo d'olio, facciamo due fili d'olio, il basilico, spezzato con le mani, e mescoliamo il tutto. A questo punto mescoliamo anche il pangrattato con il parmigiano e andiamo ad aggiungerlo ai pomodori e alle melanzane. Mescoliamo prendiamo una teglia antiaderente e versiamo il tutto così. Sistemiamo aggiungiamo ancora del pangrattato e un po' di origano se proprio vogliamo essere generosi proprio un filino d'olio così e andiamo in forno a cuocere a 180 gradi per 20-25 minuti circa. quando sarà ben gratinato andiamo a cuocere la pasta con il pangrattato e e e e e e e e e Aggiungiamo un po' di basilico alla fine e la nostra pasta con pomodori e melanzane gratinate è pronta. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta, alla prossima, ciao!